Si trattò di un omicidio feroce, ai limiti dell'inverosimile. Prima il violento pestaggio, seguito poi dai sei colpi di pistola alla testa e per concludere la spietata esecuzione, anche il rogo per rendere irriconoscibile il cadavere. Parliamo dell'omicidio di Patrick Keci, avvenuto ad Acquaviva Picena l'8 gennaio del 2008, balzato alle cronache per la terribile fine di un uomo che avrebbe pagato con la vita il tentativo di subentrare ai connazionali nel controllo del mercato della prostituzione lungo la strada bonifica del Tronto. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con la quale lo scorso 5 gennaio la Corte d'Assise d'Appello di Ancona confermò le condanne inflitte in primo grado dal Tribunale di Ancona a tre albanesi, accusati dell'omicidio di un loro connazionale. In primo grado e in appello era stata emessa una condanna a 30 anni per Ervis Cela, 24 anni, e i Ceni Fatos di 26, 18 anni invece per Ardian Cela, fratello di Ervis. Teatro della feroce esecuzione fu un casolare a poca distanza dal centro storico di Acquaviva, in località Fonte Pezzana. Le indagini condotte dai carabinieri di Ascoli e San Benedetto con il contributo dei ROS e coordinate dal sostituto procuratore Carmine Pirozzoli, imboccarono immediatamente la pista albanese, partendo dalla segnalazione di un uomo che in quei giorni vide il malcapitato Petrit Keci salire a bordo di un'auto. Nell'annullare la sentenza la Cassazione ha disposto il rinvio del fascicolo alla Corte di Appello di Perugia, che ora dovrà stabilire se gli assassini di Keci hanno un volto oppure no.